Vicky Royle, luoghi abbandonati Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su una nuova puntata su luoghi abbandonati oggi qua sono nella vecchia sala paruta e mentre accanto c'è Poggioreale antica e poi c'è Gibilina Vecchia, io sono qua in compagnia con Paolo che mi sta facendo le riprese, adesso vi facciamo vedere i ruderi di sala paruta vecchia che un tempo queste abitazioni erano funzionanti e poi facciamo vedere anche una galleria che è proprio vicino, andiamo Paolo? Mi raccomando prima di iniziare iscrivetevi al canale, andiamo Paolo, ovviamente sono tutti i ruderi questi, è bello questo è bello guarda Paolo Allora la galleria è là sopra Paolo, ovviamente ragazzi qua è pieno di ruderi di tutti i ruderi sono questi, adesso vediamo se possiamo fare magari qualche ripresa col drone è tutto distrutto? è tutto distrutto sì è tutto distrutto sì mamma mia questi sono tutti i ruderi guarda là Paolo i ruderi di palazzi vecchi e antichi qui doveva essere all'epoca un'abitazione con le scale mamma mia ma la salita dice... è bello? ehm 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 no no è inagibile la struttura Paolo, ma io non entrava ehm 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 allora qui invece come possiamo vedere c'è una bella cappella ovviamente ci avviciniamo andiamo Paolo mamma mia mamma mia mamma mia ehm mamma mia guarda qui vediamo tutti esuteri qui vediamo tutti esuteri a oh ma o o no o dio farlo in acqua per le prossime puntate faremo questa meravigliosa galleria ovviamente è tutta abbandonata faremo delle riprese inedite sapete che purtroppo non la posso fare perché mi sei scaricata la batteria del farete non vedo assolutamente nulla o soltanto questa lucina ma è molto bassa però è stato bello perché ho scoperto anche questa galleria qua allora ragazzi avete visto questi sono i vecchi ruderi della sala paruta ovviamente abbiamo scoperto anche quella meravigliosa galleria solo che la rifaremo in settimana se ho tempo perché devo fare altre gallerie più avanti però è stato bello perché ho scoperto questa magnifica galleria vero paolo io con questo voglio salutare a paolo che mi ha fatto le riprese voglio veramente salutare tutte le persone che mi seguono mi raccomando iscrivetevi al canale per esplorare altri posti io voglio mandare un bacio a tutti saluto tutte le persone nella provincia di trapani soprattutto voglio salutare la mia gente di palermo un abbraccio a tutti e grazie grazie grazie